Giornata di sciopero generale per la FIOME, la CGL trova il tempo per parlare di salute, il posto di lavoro. Alessandra Stivali, la CGL. Qual è la situazione per la città di Padova? Oggi è un'importante giornata di sciopero generale per i metalmeccanici che sono impegnati a Milano e proprio anche qui abbiamo deciso di dedicare uno spazio specifico anche alle aziende non solo metalmeccanici ma meccaniche dei servizi e di tutto il settore privato e pubblico perché la situazione di carattere della salute e della sicurezza è molto molto in crisi. Abbiamo presentato 559 questionari nelle aziende padovane sia pubbliche che private e la situazione ci risulta molto critica soprattutto per le malattie muscosclerettriche ma anche sull'aspetto psicologico e dello stress da lavoro correlato. L'indagine è di carattere di genere quindi abbiamo visto un focus preciso sulle donne e la condizione di salute delle donne purtroppo ci preoccupa molto in quanto emerge innanzitutto che sono maggiormente sovrasposte alle malattie professionali perché oltre al lavoro economico vi è anche il lavoro di cura. Risulta che maggiormente sono esposte per le caratteristiche psicofisiche a patologie che possono riguardare anche l'apparato riproduttivo soprattutto le donne lavoratrici dei settori come abbiamo detto metalmeccanico, tessile, manuale diciamo rispetto al lavoro invece psicologico quindi settore pubblico che comunque evidenzia patologie che spesso non vengono denunciate. Quindi il messaggio che noi lanciamo è che bisogna fare molta informazione perché queste donne e non solo possano conoscere anche le leggi che le possano tutelare dalla denuncia delle malattie professionali alla tutela della salute. Ultimo punto che abbiamo evidenziato è quanto sia importante l'azione del patronato sindacale che in questi giorni è in mobilitazione per i tagli di oltre il 30% a livello nazionale che è luogo preposto per quanto riguarda la tutela individuale sulle malattie professionali.